oddio ho trovato lì l'hlx4 io non trovo un cazzo bellissima reddude effettivamente ha anche più un sacco breach da giocare c'è però reddude a me piacevano tutte le mappe non ho preferenze a me non piace avoc oddio ma il mirino del vector di ghost figo a me non piace avoc non mi piace no in faction non mi piace non ti piace? ma perchè non la so giocare? non ti ricordi che non facevo una kill? eh vabbè ti ricordi che è in faction mamma mia quanto rincula vabbè una mitraletta ci sta poi non ho neanche tazzo ma questa scioglie eh vabbè anche io sciolgo no fra se la trovi per terra raccoglie non sta eh no però è anche te che camperi il cecchino io lascio per ultimo sempre il cecchino perchè è quello più scarso di solito il norma visto che fa cagare oh mi uccide quello avevo una code beh ma di solito è che tu ti lasci quelli col cecchino mi sono ritrovato due dietro mia pressione sai qual'è il problema di quest'arma? oddio cos'è? è il fuoco rapido incorporato? beh sì quello sì e ce lo puoi anche mettere volendo diventa c'è diventa un Vexper il problema è che se tu smetti di sparare per prendere la mira senti una sorta di ricarica che non ti permette di sparare in quell'arco di ricarica è un bel problema ci sarebbe carica rapida però ci sarebbe carica rapida però no dovevo attivare il calcio cinetico nooo gg gg per tiger aiutami bravo vabbè ah ti ho no che stai dicendo stavo dicendo ti ho storrito anche con Ito e poi non c'è fuoco amico è vero no va bene nel senso perché avevo una trippa tutta mia cioè avevo avevo vabbè ma cos'è un rettangolo vedi disegnato come sotto l'arma è un rettangolo figa sì 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 un rettangolo non c'era punto non c'era vabbè hitmark è la volontà che poi ho fatto suicidare uno con Ito mamma mia come rincula devo sviluppare subito calcio mamma outgunnato senza problemi ma che fa? oh che bello vedere fidami uccide il cecchino ma dai che bello vedere il il come tirano le streak qua sui W alza la mano e ci mette ci mette mezz'ora per tirare le streak vabbè niente ho incontrato pomaggio ho incontrato pomaggio nooo 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 non riesco a prenderlo ovviamente io faccio 3000 hitmark e la rk5 alcune volte mi fa veramente besti nooo aspettate di te ma com'è possibile? madonna perchè non mi bombi M8 alcune volte? nooo però penso l'abbiano facciato da niente perchè l'ho usato su arena oppure non sono più abituato io perchè l'ho usato io su arena l'altra volta e non è non mi bombava com'è